Dimmi quando tu verrai, amici di SniTube, amici di Facebook, che inizio soft questa volta, avete sentito? E allora stavo cantando, cantando nell'aspettarvi e cantando perché? Perché SniEnserbo per voi sempre tantissime novità ed io anche questa settimana partirei proprio da queste. Per il Grand Royale vi invitiamo a provare le nuovissime slot della sezione Grand Royale. Allianz, Scarface, South Park e tante altre. Giocate, giocate, giocate e approfittate dell'incredibile bonus di 10 euro più 50 euro. Un bonus pazzesco! Non potete non venirci a trovare su www.snai.it e cliccare nella sezione Grand Royale. Tante novità anche per i giochi, perché per quanto riguarda i giochi ai tavoli cash di poker, 5 carte e telesina, potrete accumulare tanti tanti punti ed entrare in classifica. Sniper voi ha messo in palio un bel bonus di 1000 euro. Cosa aspettate? Conquistate la vostra parte! E adesso, na 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 na, piripiri, puru puru, paraparan, le classifiche! Pronti? Si parte, mini explosive, 5000 euro della domenica alle ore 21 e 30. Si parla di poker, ovviamente, al primo, Lucia, 1992. Al secondo, Mickey Crack. Al terzo, Patata vince. Come mi piace Patata vince! Mi piace tanto! E ricordatevi, amici, che la patata va sempre raffreddata. Passiamo all'Explosive Sunday, 30.000 euro della domenica alle ore 21. Scusate, ma mi hanno fatto ridere chi di punto in bianco è uscito dalla porta. Dicevamo, l'Explosive Sunday da 30.000 euro della domenica alle ore 21 al primo posto Narcos 79. Al secondo, Ubrigante. Al terzo, Old Mone. Al quarto, Poker Zen. E al quinto, Gattuso 8 It. Continuiamo con lo Snipe SP da 2.500 euro. Vi chiedo ancora scusa. Della domenica alle ore 20.45, dove questa settimana ritroviamo Ginko Pok. Al secondo, Zucchillo 88. Al terzo, Trigna 80. Concludiamo con l'Explosive Master da 10.000 euro della domenica alle ore 22. Isnaipi... Isnafirofus. Sik Sok 93 al secondo, al terzo. Big e Dog. Queste le classifiche. Io vi chiedo scusa, ma non è facile trattenersi quando ti scappa da ridere. Grazie, bacio, abbraccio e morsi. L'appuntamento è su questo canale la prossima settimana. A presto. Grazie a tutti.